I radicali italiani che da tempo seguono la vicenda della discarica di Malagrotta smontano il piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ora all'esame di Bruxelles, i particolari nel servizio di Isabella Di Chio. Il testo del rapporto è già stato inviato al commissario europeo all'ambiente Potocnic. I radicali italiani definiscono insufficiente il piano rifiuti approvato dalla Giunta Polberini nel novembre scorso e presentato a Bruxelles il 20 gennaio 2011. Un piano non sufficientemente determinato nei limiti delle censure che erano già state mosse dalla Corte di Giustizia europea alla precedente giunta e non individua con la dovuta precisione neanche gli impianti e luoghi dove effettuare il trattamento e la discarica dei rifiuti, in particolar modo dei rifiuti pericolosi. I punti critici riguardano la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata che nel piano dovrebbe riguardare il 60% entro il 2011, il trattamento meccanico-biologico e il compostaggio e sul capitolo discariche viene definita illegale quella di Malagrotta se si considerano i parametri europei. Sarà quindi giocoforza necessario individuare un'altra discarica, probabilmente non si tratterà di una Malagrotta 2, ma la Grotta è una cosa immensa, non sarà necessario quello, ma riteniamo che una politica di governo responsabile non possa neanche mettere la sabbia sotto il tappeto.